Oggi sentiamo sempre più spesso parlare di accordature dell'A, alternative a quella tradizionale a 440 Hz. In particolare sentiamo parlare dell'A a 432 Hz. Ma che significa questo? Al di là di ogni facile suggestione, significa semplicemente che il nostro pianeta vibra ad una frequenza di 8 Hz, nel senso che la risonanza tra la superficie del pianeta e la ionosfera ha quel valore. Se questi 8 Hz venissero riportati in una scala musicale, corrisponderebbero ad una nota Do, non udibile perché l'udito umano parte dai 30 Hz, però sarebbe un Do. Salendo, 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 il lacio centrale, quello di riferimento del diapason, corrisponderebbe a una frequenza di 432 Hz e non di 440. Il 440 è stato deciso alla conferenza di Londra, dove vennero stabiliti i pesi e le misure internazionali, che da quel momento in poi furono adottati. E le ragioni per cui fu stabilito quel numero, piuttosto che un altro, a noi non interessa. Quindi la ragione per cui molti parlano di accordature alternative, più armoniche, più armoniose, più strettamente legate alla nostra natura umana, è esattamente questa. Semplicemente una ragione fisica. Tra l'altro, da un punto di vista psicoacustico, non è che esista solo l'A432 Hz. Esiste la possibilità di ottenere reazioni fisiche, emotive, molto più forti, modificando proprio questa frequenza di riferimento. Ed ecco perché più alziamo la frequenza dell'A, più la musica risulta essere eccitante, in modo violento, in modo brutale, agendo in maniera stridente sul nostro sistema nervoso. Non è un caso che le bande militari, per esempio, suonino accordando il LAR tra i 443 e i 450 Hz addirittura. Fate la prova. Ascoltate una qualunque melodia accordata a 432, a 440, a 450 e noterete la differenza. Ma, ripeto, è una differenza soltanto fisica, matematica. Non c'è niente di magico. Alla prossima.